Adesso ti parlo di Possenti, Possenti era l'ovra in sostanza, l'ovra era quell'organismo fascista e loro avevano l'ufficio in piazza Mameli e dalla parte dove c'è la farmacia Seitone, da quella parte lì, il portone vicino al chinotto, al primo piano, le camere d'angolo, 1, 2, 3, che poi dopo la guerra, subito dopo la guerra ci hanno dato il secolo dentro, come giornale. E loro avevano lì il loro ufficio, dove chi prendevano, legnavano, o se era il caso anche lo uccidevano, sai, non ci stavano mica tanto a pensare, questo qui, questo Possenti, poi, pensa che Possenti era un ufficiale e quando nel periodo fascista lui comandava i marianetti, capito, comandava e poi il fascista, lì alla Toretta avevano le barche e lui c'era questo gruppo di marinai, vestiti da marinai, eccetera. E già lì lui si è dimostrato quello che era. Vabbè, ritornando a lui, allora lui prendevano la gente, la legnavano, eccetera, eccetera. Allora io conoscevo, era un amico di famiglia, era un ragazzo, un edile, che era di San Marino, per cui lui era straniero in Italia, e abitava in una camera in via Sormano, dove in via Sormano e il secondo portone, su al quinto piano, abitavano due battone molto conosciute, le sorella Zitta, si chiamava Zitta, scusa il termine, una bella donna, insomma, ma era, sai, era di lusso, e infatti lei andava in questo ufficio, lei la sorella, capito? E lui era, diciamo, un inquilino interno, aveva affittato una camera. E da lei, e da loro, e loro gli raccontavano quello che succedeva di là. E lui poi mi riferiva a me, mi dice, sai, succede questo, questo e quest'altro. Ah, va bene, continua, va bene, sì, sì, stai tranquillo, io le faccio parlare, e loro chiacchierano con una facilità estrema. Va bene, va bene, va bene, va bene. E infatti da lei tante volte ho saputo che stavano preparandosi per andare a prendere in casa il tizio, o il caio, eccetera. Due o tre volte ha detto il nome e ha detto la via. Io ho fatto il biglietto, ci ho mandato una SAP a avvisare, ci ha messo il biglietto sotto la porta, ha detto scappate perché vi vengano a cercare. Qualche d'uno è scappato, compreso un mio zio che abitava in via Sormano, Giovanni, capito? Qualche d'uno invece è rimasto, l'hanno preso e l'hanno portato via, hai capito? E sai, lui restava male, io restavo male, ma sono proprio dei pirla, manca la... Vabbè, comunque, però adesso è venuto invece il guai più grosso. Noi avevamo un segretario, ci vengono a dire, ci fanno arrivare la voce che questo qua sta per... ha un sacco di soldi in mano, spende, di qua, di là, non sapevano che lui era il segretario nostro, ci vengono a arrivare, dicono come mai, questa è la voce, non aveva niente, adesso ha un sacco di soldi, pagano da bere a questa, a quell'altra, a quell'altra... Ah, e loro ce lo descriverono, ci dicono il nome, ah, e allora che facciamo? E questo qua aveva l'appuntamento con questi per parlare, cioè, stava denunciando, lo diceva lì, eh? Ah sì, io conosco, adesso vedrete che cosa... si beavano? Insomma, delle volte sembra una cosa stupida, cioè, dice, è impossibile, eppure... Allora lui aveva l'appuntamento, cioè, doveva creare l'appuntamento a me, a Rizzo, all'altro, agli altri due, per parlare, eccetera, quando ci vedevamo. E l'appuntamento ci becavano, in sostanza, no? Allora noi abbiamo detto, al comando, abbiamo detto, guardate che succede questo, e qui cosa facciamo? E mandiamo il GAP, il GAP, il GAP sono le squadre di azione patriottica, che sono quelle che vanno e sistemano, infatti sono andate e l'hanno, l'hanno chiamato fuori dal bar, che era strano, però non si potesse, e l'hanno fatto fuori. È successo il fin di mondo. Il fin di mondo perché, come lo fanno a sapere che è uscito di qua e di là, insomma, tutta una serie di cose che non finivano più, però noi ci siamo salvati, perché se loro beccavano quella, noi eravamo fritti. Ma eravamo fritti da tutto il punto di vista che prendevano tutta l'organizzazione, tutti collegati, là c'erano già tutte le sappe pronte, eccetera, per dire, insomma, sarebbe stato un disastro. E così l'hanno preso, se non sono portati in montagna e via. E lì non abbiamo più saputo niente. Capito? Venivano dalla montagna quando c'era qualche cosa, come per battere i possenti, il famoso possenti, gli avevano sfarato. Purtroppo lui aveva, aveva, come si chiama, aveva uno schermo d'acciaio, insomma, fatto di ferro, insomma. Infatti gli ha, è una magliatura di ferro, è servito un tubo, perché sai, passi, spari e vai, non puoi stare a vedere se lui è morto o no. Poi invece l'ha rivisto camminare, ha detto, ma allora cosa avete sparato? Poi si è venuto a sapere che, lui ha detto un giro, possono sparare finché vogliono, io sono, allora bisognava sparare qui, non qui. Vabbè, comunque, a parte questo. Allora, a quella riunione c'era il Vescovo, perché avevano chiamato il Vescovo, il comandante dei tedeschi, della piazza di Savora e dei tedeschi. E in più c'era Ronzello, che era il rappresentante del Comitato di Liberazione Nazionale. In più c'ero io, come ufficiale alle operazioni, di collegamento, e Frumento, che era il proprietario, ma lui era il politico. Era la vigilia, la sera del 25, cioè il 23, il 24. Allora, quando siamo lì, grande discussione, non la sera, la mattina del 24, la sera prima. A 24, grande discussione perché i tedeschi volevano uscire dalla città con l'onore delle armi. Eh no, gli diceva Ronzello, è troppo facile. Volete l'onore delle armi? Quello che avete fatto, volete, perché era la colonna tedesca, veniva da tutto l'opponente, dal Vengas, tutti incolonati in corso Ricci, eh, stavano passando. Allora dice, no, no, voi lasciate le armi e ve ne andate come siete. E loro, puoi capire, i tedeschi si emulavano, loro si sentivano sicuri dalla forza che avevano. Va bene, le ha detto, Ronzello le ha detto, va bene, voi volete così e va bene, vi prendete quello che succede. Arrivederci e voi due andate a dire, piano B. Noi siamo partiti a piedi, abbiamo passato al corso Ricci, c'erano i tedeschi che attraversavano, che andavano su, ci siamo inferati, di là c'erano ancora gli orti, dove c'è via il monto di Amicis, c'erano ancora gli orti, non c'erano, le case erano tutte spostate di qua. E in fondo c'era la famosa Crosa Lunga, dove Pelufo c'era anche la marcia, ha lasciato la pelle. In fondo alla Crosa Lunga c'era l'officina, un'officina meccanica, quella, come si chiama, facevano materiale, avevano lastre di, lastre, cioè da carpentaggio, ecco. E lì c'era il comando, c'era il comando perché Mistrangelo, quello che il suo figlio era allenatore qua, o giocatore, sì, allenatore della allenante. Lui era il commissario politico del comitato del comando, perché il comandante della zona era Carruzzo, poi diventato. Allora io lì siamo andati, a Deli, piano B, loro erano lì dentro, lui faceva il disegnatore, quell'altro facevano, il comando era tutto lì, in questa officina metallica, no? che... e allora, loro, piano B, piano B, piano B, cosa è successo? Il piano B voleva dire attaccare, e infatti le sapie sono entrate in azione e hanno cominciato. I tedeschi là su hanno trovato, perché già le formazioni di montagna erano già tutte in giro, qui sulle coline, erano pronte a intervenire se le cose non andavano come non andavano. E allora, infatti i tedeschi li hanno attaccati lì dopo la Vagnola, oltre la... quando si superca di Buona, insomma, la prima corva, la nostra sappe li ha attaccati, infatti ci sono stati due o tre morti. Poi le formazioni via via che andavano li hanno attaccati. E noi invece le sappe nostre sono entrate in città e hanno liberato la città. Capito? Come era la storia. Però tutto questo lavorio non è che è fatto dall'oggi al domani. Però questa è stata la fase conclusiva della liberazione, della liberazione, perché la città è stata liberata dalle sappe. Quando sono arrivati gli americani hanno detto ma come, siete già liberati? Eh sì, come Genova, Genova è stata liberata dalle sappe. Della stessa identica maniera. E noi ci abbiamo lasciato dei morti perché poi questi qua lì e qualche d'uno in giro mi sembra, perché poi c'è stato il fatto del sminamento del porto che è stata una cosa non è differente perché il come si chiama il comandante tedesco lui voleva farlo saltare, l'aveva beccato, ha detto adesso dove sono le mine? Poi chiaramente abbiamo poi riorganizzato la città e l'ha detto a tante cose che le più importanti che non erano più mai le altre piccole perché ognuno ha preso gli andati i compiti che dovevano avere io ho continuato solo alla parte militare perché sono diventato comandante della piazza di Savona ma sì ma è dorato sai poi è diventato prefetto uno del comitato che era repubblicano eurozone grazie a tutti